Ciao a tutti sono Ten, oggi giochiamo con One Piece Card Game online, però usiamo il deck di Barba Bianca, diciamo uno dei più forti deck, abbiamo leader Barba Bianca con 6 vite 6.000 e alla fine del turno ci togliamo una vita ma la peschiamo Abbiamo due copie di Otama perché facciamo la combo con Nico Robin perché Otama abbassa di 2.000 la potenza e Nico Robin quando attacca con donne in pratica mette capo un personaggio che ha meno di 3.000 in giù Sanji è un buono counter con 2.000 e anche carino che in pratica possiamo perdere una vita in pratica per guadagnare lui 2.000 a quel punto e si fa recettare due donne Però quello maggior parte non lo usi quasi mai, quello lo usi ancora per il counter per quello Io ho messo qua, potrebbe ci stare anche Bartolomeo, però io ho messo qua perché ho messo Jimbe perché ha un costo 4.000 o 5.000 un bloc Perché ho messo qua perché se noi combattiamo contro un altro Barba Bianca, lui che si dà ai due donne mette capo un personaggio che ha sotto i 3.000 power Così un esempio come un chopper o un bloc che ha appena a 1.000 o un esempio un Bartolomeo che ha appena a 2.000 Lo in pratica lo distrugge, noi quindi in pratica lo facciamo per counterare il suo effetto mettiamo Jimbe Perché tanto noi la possiamo cercare con Nami perché Nami ti fa vedere le prime 5 carte e dopo puoi scegliere una e dopo lo mettiamo sotto al deck in pratica sotto il nostro in fondo del deck Quindi per caso ci metti Barba Bianca, se per caso abbiamo Jimbe, tanto lui Jimbe non può essere, Jimbe countera l'effetto di Barba Bianca Quindi se per caso combattiamo con un altro Barba Bianca Diciamo vista, fortissimo perché mettiamo K.O. un personaggio con sotto i 3.000 Quindi tanto roba, quindi mangio parli tutti i counter, in pratica quasi Abbiamo Ace, fortissimo perché lo usiamo solo quando il nemico ci attacca più o meno, mangio a parte Che in pratica cosa si fa? Quando lo evochiamo, in pratica cosa lo mettiamo, abbiamo due personaggi e abbassiamo di 3.000 il loro punteggio di potenza Lo usiamo quando qualcuno ci attacca con un leader, diciamo ci sono degli attaccanti che ci rompe un po' le palle Perché noi abbiamo un po' fretta, perché noi questo deck, diciamo alla fine del turno noi ci perdiamo una vita Per dopo la peschiamo, però abbiamo fretta Mettiamo Ace, che quando il peccato ci rompe il cazzo qualcuno Bastano i 3, diciamo i due personaggi bastano di 3.000 e noi attacchiamo con i nostri attaccanti Per distruggere quella carta, diciamo i loro attaccanti, almeno siamo a posto Abbiamo Zorro, che ho messo io, perché mi piace, perché ha un costo 3.000 con 5.000 e ha anche un rush Quindi possiamo attaccare subito quando lo evochiamo Quindi è tanta roba Se per caso combattiamo contro Bala Bianca, gli diamo un Don e possiamo attaccare subito O se lo so come gli altri, attacchiamo già subito con gli altri Bala Bianca, come detto prima Quando lo evochiamo, noi il nostro leader ci prendiamo 2.000 E basta, dopo il prossimo, se per caso non lo attacchiamo Quanto prima, mette capo i personaggi sui sotto i 3.000 Abbiamo Machino, che è carina, però lo usiamo sempre per il counter Noi la mandiamo un metà di riposo, lei si recupera 3.000 Quindi è quello, però lo usiamo sempre per il counter Lui è buono per non solo per il counter, in pratica Però due donne, diciamo, si mette 2.000 Però a maggior parte tu, questo qua lo usi, in maggior parte per il counter Abbiamo, come detto prima, il chopper come blocker Come lui, che è tanta roba Per lui, può essere distrutto da questo qua Il nostro Ruffy, che è fortissimo come nostro attaccante Noi abbiamo 1, 2, 3, 4 attaccanti Però a maggior parte sono questi 3 attaccanti Ce li abbiamo subito da colpire Abbiamo Radica Beam Radica Beam Che, in pratica, se per caso noi facciamo un counter Se usiamo quella carta, guardiamo più 2.000 Se noi abbiamo meno In pratica abbiamo perso 2 vite Ci recuperiamo altre 2.000 punti In pratica noi perdiamo sempre 2.000 Diciamo, noi perdiamo sempre 2 vite A prescindere, se è un perna 4.000 Abbiamo guardia point Che è un counter, ci recupera 3.000 di punti E per caso trigger, ci recuperiamo 1.000 E se trova come Radica Beam Che se è un trigger, ci recuperiamo 1.000 di coso Allora, quanto prima, noi andiamo adesso avanti Proviamo Ok, è un Ruffy Tocca a lui Tocca a lui A Mulligan Oh, bovola bianca Ho paura che non lo trovo, quello Ho paura che non lo trovo come prima Il problema è quello Ho paura che non lo trovo Ok Voglio con note Non riesco a capire Perché gli altri trovano delle carte Da madonna Io sono qua A bestemmia E non ho trovarle Wow 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 subisce danno un po' tardino un po' di difesa ce l'ho un po' di difesa massimale sono 8 vite massimale per me un giorno arriverà 8 vite così do una vista non posso attaccare vi faccio sprecare sprecare le carte ci sono 4 attacchi vai 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 massimale facciamo forse un'altra e via dai che culo complimenti eratica beam posso tutto faccio parola del bianco per forza non ho trovato ace puttate varie lui adesso ce li ha 8 8 che non può evocare quella che gli interessa un shank un barbabianco che mai adesso barbabianco è strautizzato straforte apposta perchè è strauto e che è qualsiasi leader con lo stesso elemento rossi da 2000 in più tanta roba ah ok vuoi attaccarmi per toglimi si è si è no non è non che non non valura no lo proteggo questa volta questo turno farò ancora la barba bianca 8000 questo turno farò ancora la barba bianca ok abbiamo vinto in pratica non ho usato nessun blocker non ho neanche pescato un blocker neanche uno 8 blocker con Jinbei e compagnia bella con l'altro ok win uno smoke qua devo fare una bella attenzione posso anche tenerlo diciamo perchè tanto ho Nami mi prendo lui eeeh 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 basta dai buono Nami buono buono Nami però io finisco mettere intanto lui che me lo posso attaccare subito finisco mettere zorra e me lo posso attaccare faccio faccio pressione qua al punto faccio pressione che me lo spero dove deve spercare subito qua che blocca e poi lo vedo poi sono 2.5 metto lui ok ha messo la mano a una eeeh basta buono 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 poi faccio ruffi però l'unica pecca non ho pescato non ho pescato come dici non ho pescato per fare l'account ne ho appena su lei e basta vediamo che devo fare subito il danno qua è un problema è un problema è un problema vabbè devo farmi lo distrugio per forza eh ok chi l'ha usato lui allora quanti l'ho? 5 vedo per forza oh botta di culo con lei ok che botta di culo cazzo mamma mia che culo figaro ehi vieni qua mamma mia mamma mia che botta di culo figaro questo ha trovato zorro ok qua proprio non l'ho vista che l'unico che può togliere è solo lei ah no livello 3 questo va sui livelli è vero è vero questo qua il deck di smoker va sui livelli è vero questo qua il deck di smoker va sui livelli mi ha fatto mi ha fatto ma mi ha fatto non 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 posso aspettare io posso guardare dove ho attaccare dove ho cominciato ad attaccare una banetta 9 via sto attaccando solo con lui i prossimi butto i due uno sicuro di rufy adesso obisce danno trigger passo che culo provo 2000 per attaccarmi dov'è mettere qualche don lui 9 e l'unico modo da mettere Kuzan ah non mette Kuzan però non c'è lo stesso attaccarmi qua ma mi serviva tanto 12.000 12.000 non c'è non c'è vediamo 4 ph e il avversario as avversario forza tanto uno mette doppio rufi potevo metterlo è però finisco mette qualche don per attivare qualcosina ok posso tutto metto con rufi via che tassi però non ha trovato kuzan per quello non ha trovato kuzan per farsi ribaltare però ha perso alcune belle carte ho buttato due delle signore carte borsolino quello e potrebbe essere forte per quello ah voglio distruggire solo dei personaggi bra 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 non so 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 viviamo un po viviamo un po ma questo valuta partita perché è molto forte grazie a 8000 faccio un radica beam 6 yes per forza 8000 e devo forza subire subire qua per forza perché non ci arrivo a ho vinto allora stavo quasi per perdere però va bene così ci sta vedete che è forte il deck guardato prima ho messo apposta ho messo apposta questo qua Jimbe perché se per caso si combatti contro un altro un altro barba bianca quindi questo qua è immune al suo effetto di dare per caso due donne otama e nico robin sono buoni allora potrai nico robin non lo usi così mai perché tanto hai vista quello poi puoi mettere esempio o puoi mettere come a ricerca o un jet pistol tipo due jet pistol che otama puoi togli queste quattro carte qua otama puoi tenella tanto che almeno è perché è un 2000 di di colpo di torrella poi puoi mettere ad esempio un un jet pistol o un quello dei due anni cazzo è non c'è quello dei due anni vediamo perché non c'è quello dei due anni qua perchè quella carta vento dei due anni la eccolo questo qua che ti faccio trovare dei personaggi o o esempio anche una e questi due praticamente meglio questi due perchè qua la da done ti fa cercare un un cosa di livello 1 così puoi cambiare togliere esempio due carte di quelle due carte di robin per mettere questo qua delle dei due anni o mettere un un jet pistol due il il jet pistol qua potrebbe essere un 4 però ti fa fuori un 6.000 però vedete voi è un deck da alcune volte va come come gira con la pesca perchè si può vincere appunto è un deck come ho detto ben fatto diciamo mi sto piacendo quindi ragazzoli ciao ciao belli ciao Grazie a tutti.